Nono, devi indovinare con che frutto sono fatti, attento che sto... Ah, con la polenta, un mollizzo polenta. Come faccio a mangiarli? Oddio. Assaggia. Meloni. Albicocca. È un albicocca. No. Ah, la curcuma. Dov'hai? Al mare? Su, io, su, tu. Che tepeali. E che frutto è? È c***o, mi sono io. È il mango, lo conosci? Eh, no, non è il mango. Ma lo conosci il mango? No, no, non conosci il mango, niente.